Mister, muovete ancora la classifica, arriva un punto su un campo non facile dove la Torre si ha costruito veramente tanto dall'inizio del campionato. Voi avete giocato i primi 20 minuti del secondo tempo, può essere anche soffrendo un pochino, però avete cercato il golo più boldo. Sì, sicuramente devo fare complimenti ai ragazzi perché dopo un periodo di magra a livello di punti, adesso siamo imbattuti da quattro partite, stiamo riprendendo il nostro percorso. Sapevamo che questo era un campo difficilissimo con una squadra super attrezzata. Abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo, dopo come hai detto tu un po' abbiamo sofferto, però per fare punti su questi campi devi passare da momenti di sofferenza dove devi essere sempre super attento e appena concedi qualcosa, come è successo sul gol, loro ne hanno approfittato. Secondo me è un pareggio giusto, noi siamo contenti di questo pareggio perché stimo il mister e apprezzo questa squadra e so che non avrei firmato per un punto, però nel momento in cui viene dobbiamo essere contenti e proseguire su questo percorso fatto di entusiasmo e lavoro. E con la Sevica che comincia a sorridere dopo un paio di partite, vedete le squadre davanti o vedete sempre quelle sotto? Guarda, noi abbiamo passato un periodo brutto, noi sappiamo a cos'è dovuto quel periodo, un po' di assenza, un po' di squalifiche, però io so che sui ragazzi ci posso fare affidamento, so che è una squadra la mia forte e la società si sta impegnando a farci lavorare nel migliore dei modi, a rinforzare ancora ulteriormente questa rosa per raggiungere l'obiettivo. Noi dobbiamo raggiungere il prima possibile la nostra quota che è di 40 punti e poi vediamo cosa succede. È normale che per guardare davanti devono perdere punti lì sopra. Noi ci affrontiamo ogni avversario per provare a vincerla, però sappiamo e rispettiamo la forza di chi incontriamo. Mister, continuate l'ottima striscia positiva qui sul vostro campo, campo amico, avete raccolto quasi tutti i punti qui, due punti persi o punto guadagnato dopo lo svantaggio? No, vista come si era messa la gara forse un punto guadagnato contro un'ottima squadra, ma conosco le squadre di Misteri del Zotti, hanno fatto un grande primo tempo, una squadra di grande palleggio, di grande qualità, di grande intensità e di grande organizzazione di gioco. Quindi il primo tempo diciamo sostanzialmente era giusto il pareggio, il secondo tempo forse noi abbiamo creato molte più palle e gol. Nell'unica disattenzione che abbiamo concesso, abbiamo preso gol a 15 minuti alla fine, non era facile, dopodiché abbiamo avuto una grandissima reazione, abbiamo trovato il pareggio, abbiamo avuto altre due o tre occasioni per poterla ribaltare. C'è un po' di rammarico, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno e faccio i complimenti ai ragazzi. Con l'inserimento di Schiavanda nel finale hai cambiato qualcosina lì davanti? Sì, abbiamo messo le due punte, ci siamo messi con un altro tipo di atteggiamento, abbiamo fatto molto bene, il ragazzo ci ha dato una grande mano, veniva da una settimana compromessa dall'influenza, però la squadra ha reagito tutta, ha giocato a scimia dall'inizio, che erano tanti mesi che non giocava e ha fatto molto bene, stessa cosa Romanucci, stessa cosa di Francesco, quindi devo fare i complimenti oggi ai ragazzi.